Buongiorno, benvenuti a questo primo incontro inaugurale dell'inaugurazione della mostra The Game che ufficialmente sarà poi fatta stasera alle 6 per tutta la cittadinanza al Museo della Tecnica Elettrica di Pavia. Io sono il direttore. Facciamo dei brevissimi saluti perché poi vorrei lasciare lo spazio agli altri relatori, ma soprattutto ad Alessandro Baricco per il suo intervento. Alessandro Baricco che è in qualche modo l'anima di questa mostra, anche se poi non ha partecipato direttamente, ma noi abbiamo preso la sua anima e abbiamo cercato di calarla nel museo. Chiederei subito all'assessore Singali che vedo presentato di noi un saluto del Comune di Pavia, assessore alla cultura, un breve intervento. Buongiorno, grazie per l'invito. Mi cogliete un attimo di sorpresa perché questo mio intervento non era previsto, anche se sono felice di essere qua e di intervenire soprattutto su quella che è la questione che penso che a noi come amministrazione stiamo sotto a cuore, che è la collaborazione. Noi ovviamente come assessorato alla cultura abbiamo dato il patrocinio per questo evento. Ce ne saranno ancora prossimamente dove vedranno appunto protagonisti l'Università, il Museo Cosmos, l'Orto Botanico e quindi niente, io ringrazio per l'invito, rinnovo ovviamente la nostra disponibilità a collaborare e grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Adesso passo la parola ad Antonella Campagna che è responsabile dell'attività culturale della biblioteca, Marzia Pontoni che è la direttrice, non è potuta essere qui e quindi lei ci porterà saluti come padrona di casa. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti nel Salone Teresiano. Io aggiungo tra i membri della collaborazione citati dall'assessore anche la Biblioteca Universitaria di Pavia. perché noi siamo un Ministero della Cultura, come io continuo a ripetere, per cui diciamo se non ci chiamate direttamente non ci trovate. Detto questo, la nostra collaborazione con l'Università è diciamo continua e siamo molto felici di ospitare questa Lectio Magistralis che poi diciamo diventerà magicamente una mostra che si inaugurerà oggi appunto The Game. Alessandro Baricco non ha bisogno di presentazioni, il suo ultimo libro appunto The Game è un libro di grandissimo interesse perché ci racconta come ci ha raccontato tempo fa con i barbari i mutamenti della nostra epoca e le conseguenze. Per cui diciamo, sì è l'ultimo di questo genere, esatto, per cui insomma sono contenta che il Salone sia pieno perché penso che impareremo tante cose interessanti. Io ringrazio i nostri ospiti e lascio la parola di nuovo al Professor Berizzi che sarà il moderatore della tavola. Grazie. Sì, è giusto per introdurre Francesco Svelto, rettore dell'Università e ringraziarlo perché il sostegno al sistema museale ma soprattutto al nostro museo si sente per gli uffici che sono stati coinvolti, per aver creduto in questa mostra che è stata molto complessa da mettere in piedi, più di un anno di lavoro e quindi lo ringrazio per la fiducia che ha riposto in me e nel sistema museale e nel museo. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io, quello di Berizzi è un auspicio, lui ha detto interventi brevi, ma quando uno dà il microfono al rettore dopo tre anni questo qui non lo molla più, per cui io anche per un complesso di colpa nei confronti della mia area visto che il museo della tecnica, io da ingegnere, il museo della tecnica elettrica lo sento ancora più vicino degli altri gli ho dato molto meno ascolto di quello che non dia a tutto il resto del sistema museale, in questo senso Paolo Mazzarello lo può testimoniare e quindi oggi a maggior ragione e con piacere ci sono per dire qualche cosa relativamente a questa mostra e soprattutto per accogliere davvero con gioia e con trasporto Alessandro Baricco che tra poco ascolteremo con la sua Alexio Magistralis che introduce poi al tema, come dicevo, della mostra The Game, elettricità e rivoluzione digitale. Allora, di nuovo, un particolare ringraziamento per tutto quel che ha fatto in questo periodo arrivando all'organizzazione della mostra al direttore Carlo Berizzi la scuola Holden che ha ideato il progetto insieme al nostro museo le istituzioni che ci sono state a fianco nel proporre, promuovere e far conoscere questa proposta a partire dal comune, grazie ancora, la provincia di Pavia, la biblioteca universitaria, grazie Giustamente dicevi che tante sono le cose che stiamo facendo insieme è oltretutto un luogo così splendido per cui ringraziamo di averlo e tra l'altro approfittiamo perché pensano sempre che sia nostra in realtà non è nostra, però ne godiamo dell'immagine che ci crea attorno quindi grazie anche per questo e grazie per l'ospitalità Musei Impresa, RCS Corriere della Sera, grazie davvero a tutti Ecco, dicevo, il libro è del The Game di Baricco è il protagonista di questa mattinata e offre un'appassionante documentata archeologia, posso dire, della rivoluzione digitale la cui data di nascita Baricco fa risalire al 2007 con la presentazione che Steve Jobs fece dell'iPhone a San Francisco Ora, in questo senso il libro, proprio nella sua valenza ricostruttiva e interpretativa ispira la mostra che inauguriamo tra poco, in questo pomeriggio ma avremo una preview, una visita a fine mattinata per invitarci, e la mostra serve a invitarci a scoprire, riconoscere e sperimentare i protagonisti di questa rivoluzione Da un lato a me fa anche piacere portare un elemento che riguarda l'Università di Pavia visto che ci vantiamo, e credo che a buon diritto lo facciamo di una tradizione secolare, lunga, unica università per 500 anni in Lombardia e che ha avuto, insomma, in Alessandro Volta, professore e rettore di questa università l'inventore della Pila e a quello poi facciamo risalire tanto di tutto ciò che ha a che fare con elettricità, energia e quindi anche il digitale e tutto ciò che permette al wireless di sopravvivere incidentalmente, lo dicevo a Baricco arrivando io mi occupo proprio anche di microelettronica quindi è un tema che mi sta particolarmente caro però, ecco, siccome io cerco di coniugare sempre passato, presente e soprattutto futuro perché io credo che abbiamo veramente una grande fortuna e lo dico anche come rettore un onore essere, insegnare, fare anche rettore in questa università perché è un passato enorme davvero che fa quasi venire le vertigini allo stesso tempo però va guardato come un grande punto di partenza per pensare in prospettiva a un grande futuro in questo senso io posso dire che non solo la batteria di Volta ma, dicevo, abbiamo un dipartimento di elettronica con la microelettronica che è molto vivace da almeno 30-40 anni con grosse collaborazioni ma ancora più di recente sta emergendo un grande profilo per esempio nelle quantum technologies da parte del dipartimento di fisica che è tra l'altro entrato in quelle che sono le iniziative del PNRR sia nel centro di ricerca nazionale sia nel partenariato esteso e siamo anche dipartimento di eccellenza in Italia per le quantum technologies quindi mi fa piacere questo sottolinearlo la rivoluzione digitale ha determinato un prima e un dopo questo salone teresiano è una splendida affermazione del prima progettato tra l'altro da Leopoldo Pollack del prima nel senso che qui lo vediamo tutto attorno libri, fisicità, gerarchia dei saperi, distinzione dei ruoli e specializzazione disciplinare però sarebbe riduttivo perché è ovvio che oggi come oggi il digitale è pervasivo è una tecnologia di background c'è dappertutto quindi basta girarsi e vedere che ci sono cavi, prese, videocamere quindi a tutti gli effetti partecipe anche questa biblioteca del game questo discorso lo potrei estendere a ogni altro luogo della nostra università a qualunque altra biblioteca, ai musei cioè questo a dire che cosa? fatto che la dematerializzazione in generale e l'open access fanno sì che tutto è sostanzialmente parte di questo nuovo mondo ecco la pandemia è stata senz'altro un grande acceleratore di quelle tendenze che Baricco aveva descritto nel suo libro nel 2018 ecco è una grande sfida possiamo dire che ogni pagina del libro di Baricco potrebbe avere una nota a pagina, a pie pagina detè, fabula, narratur e sicuramente parla di scuola e università il suo libro in che senso? nel senso che cambierà in questo game il modo di insegnare, apprendere e fare ricerca c'è un paradosso che forse, speriamo che sia un paradosso che forse poi tanto paradosso non è che Baricco riporta paragonando o accostando il docente universitario al postino e al libraio in un certo senso tutti sacerdoti seppur in modo diverso membri di un'elite cui si era soliti riconoscere una particolare competenza, autorità ma anche potere ecco però si osserva anche che sono tutte figure messe un po' in crisi dal game digitale visto che una delle osservazioni alla base è proprio che saltano un pochettino tutte le mediazioni quindi non ci saranno più docenti tradizionali come vi saranno sempre meno postini e librai basta guardarsi attorno in effetti di edicole sportelli bancari tradizionali non ne vediamo quindi è una sfida è uno stimolo anche un po' a ripensarsi e essere rapidi questo è veramente quello che si osserva in ogni dove in università compresa che bisogna essere estremamente reattivi quindi ogni tanto mi dicono quelli che mi stanno attorno che forzo troppo la situazione ma lo faccio pensando che o si è davvero reattivi e si colgono tutte le possibilità o si resta quasi immediatamente indietro ecco Baricco dice anche che non è il game che deve tornare all'umanesimo ma è l'umanesimo che deve colmare il ritardo e riraggiungere il game ecco a me preme sottolineare che l'università può essere protagonista della rivoluzione digitale lo può essere sotto profilo tecnologico ma non solo ho appena parlato di alcune cose che noi facciamo a Pavia vado avanti abbiamo anche creato un distretto è uno dei pochissimi distretti della microelettronica italiana abbiamo 16 aziende che aderiscono vogliamo essere protagonisti proprio delle ricerche in comunicazione computer, sensoristica robotica, mobilità quindi siamo davvero a parte ma non è tanto a questo che io voglio soffermarmi e pensare perché in fondo come dice appunto anche Baricco non si tratta solo di rivoluzione tecnologica ma si tratta proprio di una vera insurrezione mentale quindi in questo senso ci sono sfide che non si limitano alla pura alla sola tecnologia ma cito alcune cose che si vedono già assolutamente in altri luoghi internazionali o anche italiani pensiamo a tutti i problemi etici che scaturiscono per esempio dall'intelligenza artificiale e dalla sua applicazione a Oxford già da 4-5 anni c'è un dipartimento che peraltro ha avuto anche dei finanziamenti privati estremamente imponenti che si occupa solo di questo pensiamo a tutto ciò che si collega con la guida autonoma tutte le problematiche giuridiche ma anche etiche quindi un'ulteriore domanda che io pongo è fino a che questo si può studiare ed è un'occasione da cogliere fino a dove e da dove il digitale abilita e abiliterà molta interdisciplinarietà che poi è quella che secondo me caratterizzerà l'evoluzione del futuro ecco nel nostro piccolo la pandemia ci ha spinto anche a essere reattivi e capaci di pur non avendo quasi nulla di attrezzato in termini di possibilità di video riprendere trasmettere nel momento in cui dovevamo essere forzatamente a distanza noi abbiamo attrezzato ben 300 aule e messo online in una settimana 1400 corsi ecco io davvero lo avevo detto prima a Berizzi che lui sperava che fossi breve sono stato più articolato di quanto auspicasse ma volevo appunto dare qualche sottolineatura e partecipazione all'aspetto diciamo agli aspetti tecnologici della rivoluzione ma anche approfittare per dire cosa stiamo facendo e con un po' di orgoglio dire che abbiamo storia ma vogliamo essere partecipi in varia misura e quindi non solo nella tecnologia ma in tutte quelle che sono le opportunità che possono nascere dal mondo che sta cambiando grazie sono molto interessato ad ascoltare ora la lezione e poi andremo insieme al museo grazie mille ultimo intervento doveroso Paolo Mazzarella presidente del sistema museale io sarò davvero breve e appunto il saluto come rappresentante del sistema museale di Ateneo il museo della tecnica elettrica fa parte del sistema museale di Ateneo e il sistema museale si occupa della raccolta della catalogazione della valorizzazione di tutto l'ampio e importante materiale che nella sua storia dell'università di Pavia ha accumulato e tra l'altro appunto ricordava prima il rettore che Alessandro Volta appunto diede avvio alla rivoluzione elettrologica dell'Ottocento che è un po' la base materiale la materia prima del digitale sostanzialmente però volevo ricordare anche che forse c'è un altro personaggio che si può ricordare Camillo Golgi che in un qualche modo ha come dire introdotto un digitale naturale cioè è stato il primo che ha visto l'architettura fine e ha parlato di rete tra l'altro in maniera molto esplicita a proposito del sistema nervoso centrale è stato il primo a decrittare appunto l'architettura del cervello quindi un saluto appunto e soprattutto un ringraziamento a Carlo Berizzi che ha avuto l'idea l'intuizione di questa mostra e al suo collaboratore Francesco Pietra che per la parte pavese si sono occupati appunto della realizzazione di questa mostra Francesca Cattaneo che ha seguito la parte amministrativa e poi naturalmente un ringraziamento forte ad Alessandro Baricco per avere diciamo accettato l'idea di questa di questa mostra e per la lezione magistrale che ci terrà appunto immediatamente grazie state pure cambiamo la scenografia scappano tutti ragazzi ah ok avete bisogno di sedie? no qui c'è un se può mettersi un po' più centrale così c'è un regista vero e pronto ragazzi io faccio tutto dal regista al tecnico fantastico assumo la mia scuola buongiorno a tutti potete immaginare il piacere di parlare in questa stanza così bella in questa occasione particolare quando ho scritto The Game un mio allievo della scuola Holden ci sono questi ragazzi che sono un grande stimolo sono anche un po' una spina nel fianco perché sono chiaramente più svegli di me sono più avanti insomma e mi ricordo uno dei miei allievi più brillanti che lesse sto libro e mi disse fantastico geniale peccato che sia un libro mi fa e io dico ma l'ho tratto con un po' di insufficienza però poi lui aggiunge una frase che mi colpì molto e mi disse The Game dovrebbe essere uno spazio un'esperienza un luogo non un libro e poi se n'è andato e io ho capito immediatamente che era esattamente così cioè che io avrei dovuto fare un luogo uno spazio un'esperienza e non un libro infatti il libro si agita molto nei confini del libro è fatto con una grafica a cui ho lavorato moltissimo con due grafici specializzati in mappe cioè chiaramente un libro che non non sta in questo confine tipico della carta delle pagine è proprio graficamente costruito diversamente dagli altri trovate si stringe si allarga il carattere si rimpicciolisce per cui vedete che proprio stava stretto basta aspettare nella vita alle volte e oggi The Game è qui un luogo che oggi pomeriggio vedrò quindi potete immaginare la bellezza è un po' come quando fanno dei film dai miei libri è strano cioè tu fai un gesto e poi questo gesto viene prolungato secondo una sua potenzialità non tanto tua ma sua del gesto che hai fatto così come nei film è meglio che l'autore non metta il naso questa è una delle ragioni non l'unica perché ero anche molto occupato ma questa è una delle ragioni per cui adesso io andrò a vedere un museo che non ho mai visto per cui non ho lavorato e ringrazio tutti coloro che hanno che veramente a livelli diversissimi hanno 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 lavorato perché questo accadesse non voglio dimenticarmi nessuno quindi non dico nessuno però insomma da quelli di Pavia quelli che hanno lavorato a Pavia a quelli che hanno lavorato a Torino però c'è un senso del fatto che uno ci abbia messo il naso perché è come quando fanno il film del tuo libro se ti siedi al tavolo non funziona sei troppo legato c'è le tue idee mentre invece chi sa fare musei fa musei chi sa fare film fa film e nel cinema è uguale io a un certo punto pago il biglietto e vado a vedere il film poi va bene va male quindi sono in una situazione piuttosto analoga mi sembra quando sono a casa mi vesto per andare al cinema a vedere un film da un mio libro uguale adesso per me è così però intrattengo questa piccola e deliziosa attesa almeno lasciando qualcosa in questa piccola lezione giusto per per salutare per festeggiare la giornata The Game è un libro che ho scritto una dozzina d'anni dopo i barbari figlio dello stesso desiderio che avevo quando ho scritto i barbari cioè non capivo niente e volevo capire capivo molto poco e volevo capire di più sapevo quasi nulla e volevo sapere di più dopodiché io sono nato narratore e quindi per me capire di più e poi narrare agli altri cosa ho capito è quasi naturale anche fastidioso perché sono sempre lì a insegnare alla gente però e quindi i barbari addirittura l'avevo scritto in diretta cioè su un giornale articolo dopo articolo non è un libro scritto quindi quel che scrivevo scriveva non potevo nemmeno correggere quindi era in diretta al processo di uno che stava studiando e cercando di capire era molto presto non c'erano ancora moltissime cose quindi era un po' come andare a fare i spenti e infatti ci sono delle intuizioni ma non c'erano ancora gli strumenti era presto era il 2006 fossi stato negli Stati Uniti sarebbe stato diverso ma qui in Europa eravamo avevamo un certo ritardo giusto un normale ritardo quando poi ho fatto The Game era perché c'era così tanta roba sul tavolo che proprio mi sono detto qui è il momento che io posso capire studiare studiare molto capire e se riesco a raccontare per cui è stata soprattutto una esperienza mia di scoperta di apprendimento io vengo dal mondo umanistico non avevo neanche le basi cioè quando io mi sono messo a studiare cos'era il digitale che qui per la stragrande maggioranza di voi è una banalità vedo che la signora dice no e infatti poi mi sono reso conto che in realtà c'era un dibattito già fittissimo sul digitale rovinasse le nostre vite i giovani eccetera ma poi se tu prendevi dieci umani dicevi scusami dai sai perché sai perché si chiama digitale non lo sapevano ma io per primo e quindi mi sono fatto queste domande proprio ingenue tipo perché si chiama digitale e cos'è cioè di fatto poi il processo prendo in mano sto telefonino ma fatemi tornare fino al punto in cui capisco esattamente ci ho messo mesi perché è una cosa molto difficile ci ho messo mesi a scendere fino a capire e ci ho messo mesi a risalire cercando di spiegare in termini accettabili per le persone e narrativamente belli The Game è un libro secondo me non dovrei dirlo io ma insomma è affascinante quando l'ho proposto all'editore ho detto è un thriller non è un saggio è un thriller e lui è un editore molto brillante e ho detto la trama è un uomo esplora una civiltà sconosciuta di cui dispone monumenti rimasugli cose del genere e ricostruisce chi erano quegli umani e quella civiltà è quella in cui lui vive che poi è quello che io ho fatto ho fatto delle mappe ho ricostruito cioè a partire da questa roba qua ho cercato di ricostruire l'uomo che l'ha voluta naturalmente è un pochino più facile che farlo rispetto agli assiri dove abbiamo delle prove molto limitate ma resta un lavoro molto difficile che per me è stato immensamente affascinante è un libro che mi ha molto emozionato per questo è un libro spero emozionante perché c'è molta emozione in chi l'ha scritto ho passato periodi che non riuscivo a dormire talmente quando tutti all'inizio c'era una gran confusione ma a un certo punto i pezzi hanno iniziato da mettersi insieme e quando ho fatto due o tre scoperte un po' casuali quando ho scoperto che due pezzi che continuavano a stare lontani c'era un legame cioè i due si erano incontrati si conoscevano si sono scambiati delle lettere allora clac cioè si sembra proprio come un detective o come un archeologo che scopri dei nessi sorprendenti potrei metterci ore a dire tutto quello che c'è in quel libro ma per festeggiare e per dare un senso a questa nostra piccola mattinata scelgo due o tre cose che mi è caduto di scoprire con grande emozione in quei due o tre anni che ho impiegato a scrivere questo libro diventando intrattabile per i familiari indisponibile per la scuola perché quando ti piglia dipiglia è impressionante viaggiando perché sono andato alla Silicon Valley sono andato a incontrare delle persone qui in Italia c'è molta roba interessante i pionieri di questa ci sono ancora in giro e quando li senti fa impressione qui in Italia noi abbiamo siamo stati protagonisti di due o tre mosse della rivoluzione digitale insomma quindi ne scelgo due o tre ma quasi a caso quella che più mi sconcertò e mi fece godere è il fatto che io avevo una vaga intuizione ma non avevo le prove ecco tipica dello scienziato in questo caso c'avevo bisogno di un esperimento per dimostrare che l'intuizione era che mentre intorno a me tutti tendevano a interpretare la rivoluzione digitale come una rivoluzione tecnologica accaduta per motivi apparentemente su cui non ci si faceva domande ma sicuramente con uno scopo di lucro di profitto evidente destinata a cambiare le nostre vite e lì partiva il dibattito se in meglio o in peggio quindi destinata a cambiare gli umani io avevo questa vaghissima intuizione che invece come anche in altri casi della storia fosse il contrario cioè ci sono degli umani cambiati irrequieti scontenti del mondo e della civiltà in cui vivono che ne immaginano un'altra e allora incominciano a studiare degli strumenti che li consentono di vivere in una civiltà diversa su questo qui si potrebbe aprire un bellissimo dibattito con tutti i scienziati presenti ma la mia convenzione da umanista è che nella ricerca della diciamo progresso tecnologico conta moltissimo l'inclinazione ideale morale storica degli umani che la fanno cioè non non c'è una strada maestra della del progresso tecnologico che a un certo punto volta doveva inventare la pila io non ci credo poteva inventarla duecento anni prima duecento anni dopo ci sono naturalmente degli incroci di causa che permettono una cosa ma se gli umani hanno bisogno della pila possono metterci vent'anni o cent'anni ma poi dopo hanno fatto la pila ma hanno bisogno della pila se gli umani non sentono il bisogno della pila non la inventano cioè proprio quindi la scienza la tecnologia e non è semplicemente una roba neutrale fatta di disegnalate disseminate a caso no e anzi è una è un bellissima una bellissima è un bellissimo terreno in cui tu puoi capire i desideri degli umani cioè dove volevano andare faccio un esempio che può scandalizzare molto però Darwin è tutto quello che crapsenta per noi Darwin è troppo puntuale rispetto alla civiltà che stava nascendo quando lui era vivo e ai valori di cui aveva bisogno e ai principi di cui aveva bisogno è troppo preciso è troppo utile per il mondo che stava nascendo probabilmente Darwin poteva nascere 200 anni prima poteva nascere 200 anni dopo ma in quel momento noi eravamo bloccati verso un'intuizione di civiltà e quello che ci mancava era qualcuno che ci desse un meccanismo e che ci dimostrava che la natura funzionava così e quindi certamente anch'io la mia azienda un mondo per cui questa idea che il digitale fosse una roba un po' casuale di tecnologia non mi convinceva affatto rovesciare cioè cominciare a pensare che invece era la tecnologia scelta da un gruppo di umani perché dava degli strumenti per costruire una civiltà radicalmente diversa da quella in cui loro stavano crescendo ipotesi potete immaginare l'emozione che mi ha impedito di dormire per qualche giorno quando ho scoperto che questo è storicamente vero cioè si può ricostruire e ci sono delle prove sufficienti per dire che è esattamente quello che è successo come voi sapete il digitale nasce come tantissime cose da una residenza militare è nato come una cosa che era utile ai militari americani ok durante la guerra fredda l'hanno data da studiare ma voglio dire c'era già in circolo i primi computer sono molti anni prima l'idea di computer come sapete quindi c'era questa cosa ma dai tempi e c'è sempre stata l'idea base che sta alla base del digitale però stava lì i primi che hanno detto beh ci sarebbe un uso molto utile sono stati i militari hanno preso le università americane e le hanno detto studiatela e mettetela a punto le università americane le hanno messe a punto per i militari ma mentre la mettevano a punto per i militari si sono resi conto che era una figata assurda per loro e il primo utilizzo civile è stato mettere in rete le università cioè riuscivano a comunicarsi le loro ricerche con molta più velocità all'interno di queste università si sono formati come dei nuclei di che adesso possiamo definire piuttosto comunque dei nerd esistono delle foto di questi laboratori in alcune università non in tutte in altre hanno iniziato a mandarsi delle mail hanno detto bello e si sono fermati lì in altre invece in alcune si sono formati proprio delle specie di covid nerd totali dove nasceva l'intuizione delle potenzialità sconfinate di quella tecnologia che si avvitava con un'idea molto precisa di ribellione al mondo in cui stavano vivendo per me è stato decisivo leggere un lungo quando l'ho trovato un lungo articolo di un uomo che si chiama Stuart Brand che è stato uno dei diciamo dei testimoni degli anni pionieristici della rivoluzione digitale e l'ha raccontata ed era un articolo su una rivista molto molto cool su un videogame il primo videogame della storia Space War e lui è andato perché perché lui lavorava lui era un biologo lavorava all'università e aveva notato che c'era questo gruppo di hippie praticamente che ha delle ore di notte incredibili stavano attaccati a sta macchina facendo cosa giocando e proprio lui ha detto ma che stanno facendo questi qua lui che non era un informatico ha iniziato a cercare di capire cos'era sta roba e poi ha fatto questo lunghissimo racconto fatto foto eccetera e lì adesso la faccio breve però io lì ho capito questo e su questo guardate io ho veramente pochissimi dubbi siamo in un punto molto piccolo del mondo cioè siamo in California in due o tre punti della California non siamo lì a caso e poi ne parliamo come non era caso volta qui cioè dove succedono queste cose non è mai casuale si parla di piccolissimi sì covi praticamente ed ecco quello che adesso sinteticamente posso dirvi in quel momento storico in California come in altre parti del mondo ma con uno stile molto particolare come sapete c'era un movimento giovanile vivissimo di rifiuto dello stile di vita dei padri poteva essere mirato sulla guerra del Vietnam in particolare poteva essere mirato sul fatto che odiavi tuo padre poteva essere e sostanzialmente quel movimento di ribellione libertario rispetto al mondo che noi oggi possiamo definire il novecento e il disastro del novecento tutto questo avviene in piena guerra fredda quindi dopo due guerre mondiali atroci e un mondo ancora bloccato da un muro che lo divideva in due beh insomma c'era una generazione che aveva in mente qualcosa di diverso in maniera confusa ok e l'ha fatto ormai lo possiamo dire con certezza l'ha fatto sostanzialmente in tre modi il primo politica grandi marce contro il Vietnam in America non proprio comunisti quasi non ce n'era ma insomma un'attenzione per il socialismo movimenti cioè quelli che credevano che il mondo si sarebbe cambiato attraverso un'azione politica molto logico ok ed erano molti diciamo su cento una quarantina ce n'erano moltissimi lì lì in California meno in Europa che invece avevano un altro modo di ribellarsi al modo di cambiarlo ed erano gli hippies sostanzialmente cioè gente che aveva deciso un altro stile di vita vivevano in comunità non rifiutavano il consumismo avevano costumi sessuali completamente diversi che erano una forma di rifiuto di quelle dei padri avevano un'idea proprio del denaro diversa già avevano molte idee sull'ecologia sul rispetto del pianeta facevano un po' ridere adesso se non ci pensa figli dei fiori la chitarra eccetera però erano esattamente un rifiuto del mondo dei padri e questi erano molti diciamo 45-45 ogni tanto erano gli stessi ippi che facevano le marce contro il Vietnam però sostanzialmente voi vedete poi c'era un piccolissimo gruppo 10% non di più ma forse 5% che non erano diversi nel rifiuto del mondo dei padri non erano diversi nell'intuizione un po' disordinata di un mondo diverso più libero più leggero questi non facevano marce questi non vivevano in comunità si facevano le canne molte e stavano sepolti nei laboratori di informatica di alcune università americane ma sepolti vuol dire che non uscivano da lì il nerd nasce da lì di fatti Stuart Brand li trovò a mezzanotte a giocare li trovò a mezzanotte a giocare i nostri figli perché vedo qui che la generazione è una cosa che viene da lontano questa qua non è vostro figlio che non sta bene è nato così perché giocavano molti anni dopo relativamente molti anni dopo perché poi parliamo di un processo di una trentina d'anni un giorno Steve Jobs si presenta a fare una lezione a San Francisco mi sembra a un congresso di grafici dato che il Mac comunque aveva per i grafici una grande insomma cercava di connettere i due mondi incomincia a parlare si rende conto che davanti a lui c'è una platea di persone che non sa nulla del digital ma niente proprio niente quindi dice prima parola e poi fa una domanda e dice ma qualcuno sa cos'è sistema binari insomma sa i grafici allora capisce che qui lì non può funzionare e allora sceglie di provare in dieci minuti a spiegare cos'è il digitale e cosa usa come esempio un gioco pong non so se lo ricordate ting pong ok e perché perché il videogioco era tecnicamente per loro il modo di sperimentare le potenzialità del digitale un po' perché erano matterelli però provavano cosa si riusciva a fare con quella tecnica e lo provavano facendo giochi interattivi velocissimi con la postura che oggi è diventata la postura degli umani cioè uomo tastiera schermo che è la postura della società digitale che quando io ero ragazzo non esisteva nel libro faccio l'esempio del calcio balilla del flipper e poi del videogame ok noi siamo nati con altre posture fisiche ma la postura che poi sarebbe stata la nostra e che è stata raffinatissima ma alla fine guardate quando io faccio così uomo tastiera schermo posso anche dire siri però guardate quella è quella postura nasce dal videogame ci sono le foto di questi qua che sono davanti a questi computer primitivi e niente tu cosa vedi vedi quello che sarebbe stato l'uomo della nuova civiltà queste foto avevano tutti i capelli molto lunghi e mi ricordo un dettaglio bellissimo mangiavano solo nel cartone nella plastica e lasciavano lì le robe cioè proprio sì sì erano evidentemente cioè alla fine il mondo è stato il mondo del novecento ha iniziato a morire a un certo punto e non è morto per quelli che facevano le marce perché politicamente guardate non è morto per gli hippies che politicamente cioè antropologicamente sono poi sfumati quasi nel nulla ma è stato cambiato da quel 10% lì quelli lì hanno cambiato il mondo a nome di tutti quanti ma a loro noi dobbiamo quello che siamo poi potete giudicare come volete quello che siamo quello è un dibattito ma anche ad esempio nel libro The Game è affrontato nelle ultime 30 pagine perché non è quello che mi interessava poi quella è una cosa che si può fare dopo ma se non sai cos'è il digitale che ti metti a dibattere su se è giusto o sbagliato se fa bene a tuo figlio se non sai com'è nato questo strumento perché perdi tempo a discutere se può fare del malato non sai nulla cioè è come per me parlare dell'olio di palma e decidere che fa male a mio figlio ma non ne so niente ma che cosa nulla per cui insomma in un secondo momento si può discutere ma in un primo momento è utile capire cosa cavolo è successo The Game è un libro che ha cercato di spiegare a me per primo cosa diavolo è successo e la prima cosa che poi sono riuscito a dimostrare lo dico da scienziato sono riuscito a dimostrare che effettivamente la spinta propulsiva della rivoluzione digitale non fu solo di profitto non fu casuale non fu di inerzia automatica della scienza che tende a migliorarsi ma ebbe una componente diciamo molto forte e rivoluzionario lo dico proprio nel modo e se spacchetto la parola rivoluzionaria quel che vedo dentro è un'ipotesi di mondo completamente diverso soprattutto un'ipotesi di mondo che confutasse il mondo dei padri e cioè sostanzialmente il novecento il secolo più atroce della storia degli umani occidentali forse il secolo della guerra dei trent'anni c'è un dibattito ma insomma siamo lì mica male quando tu hai fatto un casino del genere il minimo che ti può succedere è che a un certo punto alcuni figli dei figli particolarmente svegli liberi e pazzi si immagina un mondo completamente diverso la seconda cosa che mi è caduta di intuire che intuivo e poi ho trovato le prove era che l'intuizione confusa che si aveva allora era sostanzialmente di diciamo così di sciogliere il mondo cioè di 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 renderlo con un peso specifico leggerissimo ok perché c'era questa intuizione giustissima che tutto il casino che avevamo combinato nel novecento nasceva per lo più da un mondo troppo pesante troppo difficile da spostare cioè muscolare troppi muri troppi confini se pensate quanti sono morti per i confini nel novecento confine non è una cosa che ti piace più tanto dopo due tre generazioni di umani hanno sofferto orribilmente nel nome di cose di spostare alle volte di due chilometri un confine i confini non ti piace più ma non ti piace più mai non ti piace più il confine nemmeno tra il dipartimento di antropologia e quello di sociologia non ti piace nemmeno più il confine fra cinema alto d'autore cinema popolare non ti piace più nessun confine è un istinto animale proprio quando gente è cresciuta in un mondo in cui le informazioni avevano un peso non un peso di importanza dico peso proprio chili talmente forte cioè il giornale stampato già nel pomeriggio le notizie erano altre ma non le si sapeva c'erano dei giornali che uscivano il pomeriggio sembrava già una roba no? c'è tutto come pesante no? in più so mio nonno non parliamo di tanto tempo fa mio nonno è andato a sparare agli austriaci senza sapere la loro lingua senza essere mai andato in Austria senza sapere nulla di loro della loro civiltà zero aveva una quantità di informazione rispetto alla quale quella di mio figlio è oggi sedicenne forse 0.6 si sono muri muri l'informazione muri gente che non aveva mai nemmeno cioè non potevano prendere un low cost andare a vedere che effettivamente in Georgia vivono diversi cioè ma anche proprio l'idea che possono esistere persone che vivono diverse da te ma sono no? per questo riuscivano a spingere l'intrincea poi quando arrivavano l'intrincea dicevano oh ma siamo pazzi ma gli spingevano io non ho andato volontario non era mica tanto stupido ma non aveva informazioni era un mondo no? è andato in trincea per spostare un confine ha visto morire i suoi amici ha sparato è andata bene però sono cose che non dimentichi c'erano dei muri tra cose incredibili tra le razze cioè avevano tirato su un muri ovunque e questo ha prodotto cioè il termine stesso di razza è un muro ma è un muro inventato cioè è spaventoso è spaventoso e alla fine a furia di essere spaventoso c'è un pazzo che mangia nel cartone che intuisce però che ok ci possiamo spedire due mail ma vogliamo mica fermarci qua perché il risultato vero è che con una determinazione pazzesca nel giro di 15-20 anni questi e quando dico questi dico quel gruppo di nerd e a poco a poco molti altri anche nel mondo hanno sistematicamente smontato il mondo intero riscrivendolo in un formato per cui non avesse più peso il risultato perché io cito spesso la rappresentazione di Steve Jobs che alla fine come facciamo anche nella storia poi ci sono i nomi delle battaglie gli anni delle battaglie la pace di Vesfalia cioè in un continuo poi noi scegliamo dei momenti ok è importante nella rivoluzione digitale dire che quando uscirono quei due con Google è un momento fondamentale non mi importa non faccio santi eroi non sto a discutere poi nient'altro però alla fine come c'è il monumento a volta vorrei chiarirvi che non è tutto uguale cioè alla fine con l'iPhone non è un frullatore fatto meglio un giorno mettetelo di fianco a un Blackberry e capirete non è semplicemente una cosa è una postura mentale è un'idea proprio di fondo è un'intelligenza diversa e noi abbiamo dei momenti capitali dell'affermarsi di questa intelligenza diversa e ogni volta come è sempre successo la prima volta che questi hanno detto ma avrei in mente questo l'autorità del momento l'ha detto beh sei fuori i due brain page quando dissero al loro maestro il nostro progetto di ricerca sarebbe fare un motore di ricerca che funziona così e sapete che il loro professore che pure faceva quello si fece una risatina e disse vabbè sì certo dovreste però adesso non spiego i dettagli ma potreste capire gli fa però beh certo prima dovreste scaricare tutte le pagine del web dice così ridendo e i due molto seri hanno detto lo stiamo facendo e chiusi in un garage avevano messo una serie di allora c'era un numero ridicolo di pagine web ma sembrava enorme ok oggi google lo fa su numeri ma al tempo bisognava avere l'intuizione che tu dici ok lo scarico su dei computer faccio lavorare 24 ore al giorno prima o poi arrivo alla fine cioè non è che sembra una cosa no cioè visionari in qualche modo quando steve jobs decise di fare un telefono in cui c'era un pulsante non so se ve lo ricordate il blackberry mi piacerebbe fare vedere una foto blackberry era un oggettino così c'erano più tasti cioè c'erano solo tasti eh insomma quando decidi che fai ok un tasto non di più quando steve jobs lui è stato uno di quelli non voglio santificarlo però in alcuni momenti il mac il mac con la con l'idea di far diventare amici gli umani e il computer e cioè non voi professori dell'università no gli umani c'è questo piccolo dettaglio che il mac quando tu l'accendevi ti salutava no e i suoi tecnici hanno perso moltissimo tempo per ottenere questa roba qua e continuavano a dirgli ma che cazzo cioè quel computer faceva delle cose pazzesche no e questo dice ma perché dobbiamo perdere lui voleva proprio che tu lo accendevi lo capite l'intuizione di dietro c'era questa idea guardate elementare ma fantastica che sono degli switch della testa cioè che il computer non era uno strumento per un'elite universitaria ma il computer era lo strumento che tutti gli umani avrebbero avuto sul tavolo tempo dieci anni sviluppò questa intuizione con tutti gli umani avranno in tasca poi da lì nell'orologio negli occhiali non lo so un tatuati sotto la pelle ma ma guardate che in quel momento quando tu quando tu pensavi guardare io li ho visti negli anni sessanta in Italia c'era a Pisa c'eravamo abbastanza dei pionieri e c'è un museo e c'è un computer anni sessanta il computer anni sessanta pesava tonnellate funzionava solo a temperature bassissime costava una cifra che non avete idea in Europa ce n'erano pochissime non dovete pensare e soprattutto se non eri uno veramente figo non capivi niente cioè era una macchina dovevi aver studiato quello infatti le foto sono queste in camice bianco ti un po' coperti perché freddo cane perché da su riscaldavano cioè è in quel momento che degli umani hanno detto metteremo un computer non nelle tasche questo è venuto dopo ma sulla scrivania di tutti gli umani quando loro hanno detto tutti gli umani hanno pensato tutti gli umani cioè il più imbecille di pavia avrà il computer sulla scrivania sono intuizioni della portata del suffragio universale facciamo votare tutti e il voto dell'ultras della Lazio con tutto rispetto varrà quello di Mattarella cioè queste intuizioni di quello dicevo parliamo un attimo perché sono della stessa portata di fatto col computer col computer amichevole che loro riuscirono a fare cioè un computer che un uomo normale poteva usare cosa che passa da tante piccole cose stupide ma 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 il Mac aveva al contrario degli altri computer se tu dovevi eliminare un file invece che dover fare una stringa prendevi una roba che si chiamava topo cliccavi trascinavi in un disegnino di una spazzatura mollavi e faceva pluff allora questo vi dice tutto vi dice che veniva da un gioco vi dice che sarebbe rimasto un gioco per sempre e vi dice che non avevano in mente di fare niente che non potesse essere usato divertendosi e in maniera immediata le cartelle cioè se voi guardate le icone anche dell'iPhone c'è un collegamento col passato molto bello cioè alla fine ancora adesso il telefono c'è la cornetta del telefono c'è gente che non l'ha mai vista però c'è c'è Google Maps aveva ce l'ha ancora questo qua il Safari c'ha una bussola no? c'è bellissimo cioè è il mondo che viene da loro orologio è fantastico cioè no? ma perché? perché non facevano cose per chi aveva studiato facevano cose per gente che diceva dove cazzo il telefono? eh una cornetta clic il touch cioè umano animale bambini no? e su questo hanno avuto tutti una determinazione una coerenza pazzesca e infatti hanno cambiato il mondo pochi santi l'hanno fatto e sono riusciti sostanzialmente siamo riusciti sostanzialmente a smaterializzare il mondo rendendo difficilissimo ormai erigere dei muri per questo a noi a uno come me nipote di uno che è andato contro gli austriaci in trincea eh oggi sembra una cosa da altri tempi che qualcuno bombardi o varchi un confine e si metta a far casino per un confine della gente muoia per questo non perché siamo più buoni nemmeno perché a scuola ci hanno insegnato le democrazie ci hanno allevati i pacifisti guardate perché quello in due giorni crolla ma perché non abbiamo proprio più la cultura del muro cioè facciamo fatica ad avere la cultura del muro poi quando ti aggredisce personalmente probabilmente reagisci di nuovo alla vecchia maniera come sta succedendo ma perché ad esempio la guerra in Ucraina ci sembra una cosa prima di essere atroce ci sembra una roba di dire ma che è che novecentescano perché siamo così lontani perché abbiamo trent'anni di muri caduti di tutti i tipi uno dei muri naturalmente che la rivoluzione digitale ha tirato giù perché ce l'avevano su questi qui c'erano dell'astio in circolo uno dei muri è stato quello dei mediatori i sacerdoti gli specialisti gli esperti il nemico numero uno di questi qua pensate google il sapere prima volevi sapere la cosa di Proust venivi qua cercavi c'era il manuale del professore che ha scelto tutta la vita a Proust ok google fa proprio un altro ragionamento e dice prendiamo tutto quello che c'è su Proust nel mondo tutto e rendiamolo accessibile a chiunque al più stupido di Pavia all'ultras della Lazio dici no Proust no no Proust la sclerosi multipla il nazionalismo libertà assoluta ma sei pazzo libertà assoluta votano tutti anche le donne no le donne no cioè proprio quelle svolte metti a disposizione fai circolare completamente il sapere insomma il bibliotecario insomma non è più quella figura no cioè non è che proprio gli fai segnali ma insomma ma perché perché nel sangue di quella generazione c'era il lastio risentimento per l'elite non era una cosa guardate non è un capriccio è che sono state le elite militari a buttare il novecento in due guerre disastrose sono state le elite culturali che hanno creato i modelli culturali perché si potesse andare in guerra sono state le elite economiche che hanno creato il disastro che hanno creato sono state le elite artistiche che sono state incapaci di fermare il disastro dopo un secolo così tu ce l'hai un istinto proprio che quando arriva quello che dice no no so tutto io scostati un attimo e fai wikipedia cioè un'enciclopedia in cui tu degli esperti proprio te ne batti e dici facciamo che tutti la fanno e si controllano da sé follia però io mi ricordo il giorno in cui ho letto una frase di Umberto Eco che per me era e lui ha sdoganato un giorno della sua vita lui ha sdoganato wikipedia e ha detto guardatela lavorate su wikipedia da lì in poi nessuno più ha fatto i compiti nessuno più ha fatto le ricerche vabbè un altro problema però però io me lo ricordo perché io non l'avevo mai pensato cioè perfino io avevo pensato vabbè ma una vacata ma come può no ancora adesso se vedo la mia voce di wikipedia ci sono due o tre errori ma il sistema cioè gli errori ci sono comunque nel sapere e quello almeno è un sistema molto più elastico e molto più aperto e molto più flessibile a casa mia c'era l'enciclopedia comprata a rate dalla mia famiglia cioè come fai a non pensare che 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 non hanno fatto veramente una rivoluzione quando ti trovi davanti a un'enciclopedia fatta da tutti sostanzialmente gratuita flessibile cioè un'utopia sono riusciti a fare è andato così con tutto il denaro ha cominciato a circolare con una velocità con una leggerezza l'altro giorno ho venduto dei miei investimenti e ci ho messo sei secondi cioè è una cosa incredibile no sono delle azioni ma con questa cosa in mano intanto che whatsappavo con altri pensate come gira il denaro adesso è così tutto cioè le informazioni ma tutto l'immaginario la bellezza opere d'arte luoghi biglietto online per il volo siti porno siti di incontri sapete tinder e poi adesso tinder per sessantenni mi hanno detto ma insomma è tutto quello sessantenni ma molto efficiente perché ho degli amici della mia generazione che ci sono fatti un bel futuro con tinder quindi tendo a rispettarlo io non posso usarlo perché mi vergogno sono persona pubblica però insomma ho ottimi risultati però pensate anche solo a tutto quello cioè cosa ha cambiato cioè anche lì muri giù devi partecipare a sette feste prima di incontrare domani sera sei a cena si può discutere ma intanto dobbiamo registrare il fatto che le rivoluzioni fanno vittime le rivoluzioni fanno soffrire le rivoluzioni fanno errori e qui entriamo nella parte cioè allora poi tutto questo com'è andata ok e qui ognuno lo può pensare come vuole effettivamente nel mio libro c'è molta attenzione a a sottolineare i tratti libertari utopistici visionari di tutto questo perché dall'altra parte c'è molta attenzione a giudicare i tratti rischiosi c'è così tanta attenzione che allora per riequilibrare ho detto ok però c'è troppa inclinazione strana c'è stata di opposizione alla alla rivoluzione digitale posizione mentale perché poi la gente si scrive mail dicendo la rivoluzione digitale è pericolosissima intanto si sta scrivendo una mail cioè è incredibile ci siamo arrivati a boh è andata così per cui nel libro insomma ci metto molta energia però poi alla fine dico anche ovviamente i rischi ci sono non è che voglio negare per carità però le rivoluzioni sono lunghe si correggono poi per strada si imparano a vivere ecco però è molto importante saperle conoscerle per questo il libro è pieno di mappe e anche velocemente perché alla fine del 2018 è abbastanza presto per dire come se nella rivoluzione francese dieci anni dopo uno avesse detto oh ecco quello che è successo non era così chiaro cosa avevano combinato dopo la rivoluzione francese ma per questo è possibile per la rivoluzione digitale perché uno può studiare con più velocità avere più informazioni per cui è un libro utile sono contento che oggi diventi uno spazio un luogo mi piacciono le mappe che ci sono in questo libro perché chiariscono molte cose oggi sono passati quattro anni nel 2018 the game del tutto casualmente è diventato molto più importante perché è uno screenshot del mondo prima che si incasinasse perché sostanzialmente poi con la pandemia è cambiato tutto e oggi io farei molte difficoltà a spiegare cosa è cambiato ci vorranno quattro o cinque anni e forse perché è successo tutto il contrario di tutto cioè la gente ha incominciato noi abbiamo incominciato a usare gli strumenti digitali come una salvezza non abbiamo più fatto tanti difficili però nel contempo il mondo ha avuto un passo indietro enorme di paura di sono ritornati i mediatori gli esperti che erano praticamente spacciati eppure niente sono diventati tutti ascoltare i virologi dove è finita una classe politica in cui ormai non credevamo ma veramente più che a stento tenevamo là per l'ordinaria amministrazione fare piccole cose nel giro di due settimane ci ha chiuso in casa e noi ci siamo chiusi in casa siamo tornati nel novecento mio nonno di colpo ma poi con zoom però facciamo le riunioni cioè è molto difficile capire io non ci ho capito ancora niente non so dirvi a che punto siamo per cui da questo punto di vista the game del tutto casualmente non per mia volontà però è diventato ancora più prezioso perché bene o male poi nell'anno dopo non è che ci è successo tutto quello che qualcosina ma niente di che e quindi una specie di foto prima che tutto si incasinasse resterà lì per sempre e per questo anche ha un senso che diventi museo cioè proprio oggetti permanenza forse museo non è nemmeno la parola giusta ma insomma luogo luogo per vedere toccare sperimentare e per questo penso che un po' casualmente un po' per una vostra bellissima intuizione diventerà un posto prezioso ecco almeno spero veramente che lo diventi vabbè adesso non vedo l'ora di andarla a vedere quindi vi abbraccio vi saluto e state bene grazie 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 grazie